Lei ha ricordato Milano non dimentica che le manifestazioni come quella di Forza Nuova devono essere respinte, l'ho detto con forza e con chiarezza. Sì, però siccome con altrettanto pragmatismo so che succederanno ancora, noi ci opporremo e opporremo la nostra volontà di utilizzare quei momenti invece per dire la nostra e quindi per sottolineare la nostra volontà di respingere ma anche di sottolineare il valore della Milano antifascista, della Milano che a nostro giudizio è la Milano più bella.